Strano Si però mi piace Polizia Fantastico Una chiesa Wow Sembra un carry on Maledetto Già il titolo Capra Sì Per Forse ho un Forse so di cosa parla Ah Forse a capire dal titolo e da come inizia Esatto No Fantastico Questa canzone la conosco Io non la conoscevo ma Ma ragazzino Ma quanti anni c'ha? 18? No anche meno Porca puttana Oh mamma Ups Ok vado Vado via Ciao Questi dinamismi Bello Tempi complessi Bello Bellissimo Anche il bassista è fantastico Ma questo video di seguire È un binguetto C'è il cazzo È un binguetto È un binguetto Eccolo è lì Bello Bello Anche come è impostato il video Sì Molto suggestivo Bello Che tecnica Esatto Fa che questo genere qui è un genere un po' strano Sì Forse è più classico Non lo so È strano Sì però mi piace Polifia Polifia Esatto il genere Polifia Bella che la chitarra È simile a quella mia nuova Sì No Ecco Bella Questa frase Sì C'è Non è un riff Però Secondo me Baiava da lavori Bello Questo Bravissimo Non me ne intendo come si chiama Però è bellissimo Sì Anche come se l'hai il bassista La batteria è elettronica Sì si sente Sì Ci sono Si sentono dei sintetizzatori anche Un po' più sintetizzato Però È anche il bello di questa atmosfera Diciamo Secondo me ci sta anche con il contesto Ecco Questa forse no Questa no Non è un'elettrica Ci sto di più infatti È molto più bella personalmente Sì sì Concordo Io preferisco molto la batteria vera L'elettrica È troppo Cioè ti dà quel cuore Diciamo quell'anima Che è una batteria È più Cioè Che un'elettrica non ce l'ha Esatto Cioè dai Il tuo Il tuo tocco Il tuo tocco Il tuo tocco La tua tecnica Ma questi chitarr Sono due chitarristi Ma sono bravissimi entrambi Veramente Quell'altro è così giovane Cioè Cosa via A quanto è noi Che questi tempi misti no È molto complesso Molto complesso tra l'altro E anche Nonostante sia musica Solo strumentale Non ha noia È molto interessante Poi le due chitarre Fanno anche una parte più vocale Sembra che ci sia anche una voce Che parla di cosa Del testo insomma Della canzone Allora qui è molto inquietante Però Sì Bello Però bello Mi è piaciuto tanto Bellissimo Questa canzone già la conoscevo E Io no Ma la metterò nella mia playlist Esatto Esatto Molto bella Molto molto bella Allora Riguardo al video Intanto tecnica Super bravi Quindi Veramente Non Niente da dire Niente da dire Niente da dire Cioè Non abbiamo parole da Da ciò che abbiamo ben ascoltato Sì C'è la chitarra C'è la battaglia Perché come Secondo me Tra lungo al corpo Sono un bel gruppo Ben Ben strutturato Sì E anche il video A livello Di Scena È fatto veramente bene Anche a livello di fotografia Quindi colori Desaturati Questa area È proprio Si Immerge perfettamente Nel contesto della canzone Secondo me Esatto Anche la scena Sì proprio E anche il carry on Sia all'inizio Che alla fine Ti crea una suspense Che dici No voglio sentire cosa c'è ora Esatto Oh ma voglio sentirla di nuovo Quindi secondo me È stata una scena vincente Ti incoraggiano anche A riguardare il video Sì Anche di ascoltare anche loro altri brani Secondo me Veramente Voto Quanto gli diamo qui Allora Difficile Sicuramente alto Però Che voto Io ne do 9 9,9 e mezzo Sì Sì 9,9 e mezzo Confermato Sì Ciao a tutti Lasciate un like al video Iscrivetevi Iscrivetevi Ciao a tutti Ciao a tutti